devo dire che mi fa molto strano che ci troviamo in quella che un fino a sette mesi fa era tutti gli effetti una piccola sala concerto e invece adesso è diventata una piccola sala in cui faremo probabilmente per questa stagione appunto appuntamenti come questo insomma anche questo è uno degli effetti poi della pandemia e che tra l'altro è anche andata a colpire uno dei settori come quello dello spettacolo all'interno del quale appunto ci sono migliaia di lavoratori che a causa di quello che di quello che è successo si sono trovati improvvisamente a veder totalmente eliminata la propria fonte di reddito ecco io penso più che la cosa magari può essere interessante e suddividere in due filoni no visto poi appunto per calare poi nel materiale poi il discorso che andiamo a fare che non sia semplicemente una carellata tra quei settori nei qua che comunque anche durante la pandemia hanno continuato a lavorare e i settori che invece a causa della pandemia hanno subito uno stop poi in realtà vedremo che alla fine i due i due settori di fatto sono spesso accomunati poi da da tutta una serie di considerazioni beh penso che quando si parla di settori del settore che comunque è rimasto attivo durante la pandemia non possiamo che non menzionare la logistica ovviamente poi ci sarà adam che come dire spiegherà un problema meglio di me la situazione che chiaramente a causa del fatto che eravamo tutti quanti chiusi a casa e quindi anche gli acquisti online hanno sono come dire aumentati in maniera esponenziale è stato un settore che durante questi mesi ha visto un incremento pazzesco del lavoro ovviamente incremento che agli occhi dei padroni ha rappresentato una possibilità di arricchirsi visto che di fatto tutte le aziende della logistica hanno avuto un incremento del fatturato incredibile durante questi mesi ovviamente cosa che è stata fatta come dire calpestando senza nessun tipo di scrupolo quelle che poi sono le basilari condizioni di sicurezza dei lavoratori basti pensare appunto a almeno all'inizio quello che è stata una delle una battaglia incredibile banalmente per poter avere accesso a quelle che sono gli strumenti insomma i dpi che sono i nuovi dpi della pandemia no per cui c'era questa situazione paradossale per cui i telegiornali ti dicevano che senza la mascherina i guanti non potevano andare da nessuna parte poi nel momento in cui invece un lavoratore si trovava nel magazzino gli veniva detto tu lavora non ti preoccupare non ti serve la mascherina non ti serve niente senza considerare poi che dall'altra parte è chiaro che la mascherina l'abbiamo visto penso lo proviamo tutti qualsiasi cosa noi facciamo è rappresenta un ostacolo a moltissime delle nostre attività ed è chiaro che essere obbligati a far sostenere dei ritmi forse nati all'interno di un magazzino e avere l'ostacolo della mascherina è comunque una cosa che rende sicuramente molto difficile lavoro e non sempre facile coordinarsi con i propri colleghi per imporre una sorta di sabotaggio nel senso di rallentamento poi di quello che è il lavoro quindi diciamo che durante la pandemia abbiamo appunto visto questo tipo di battaglia e poi dall'altra parte anche il fatto che soprattutto anche adesso nel momento in cui è poi ripartito tutto in cui comunque ci sono dei protocolli per quello che riguarda il contenimento del virus quello che poi il rispetto di questi protocolli è la messa in atto in maniera in modo veloce di questi protocolli io porto un esempio a uno dei magazzini dell'SDA del Veneto quello di quel magazzino di Marghera i lavoratori hanno scoperto un loro collega positivo e gli è stata data la possibilità di fare il tampone solo dieci giorni dopo questo vuol dire che per dieci giorni queste persone hanno continuato ad andare a lavorare senza sapere se c'erano degli altri casi positivi ovviamente nel momento in cui hanno fatto i test hanno trovato gli altri casi positivi era assolutamente preventivabile e questa cosa qui in qualche modo comunque vuol dire mettere mettere a repentaglio la propria salute e la salute anche delle persone che poi ti sono vicine in qualche modo e questo come dire non sempre poi viene colto anche dalle persone all'interno del magazzino spesso c'è più forte la preoccupazione di non sapere come fare a ricevere lo stipendio nel momento in cui uno viene messo in quarantena o si auto mette in quarantena come dire attraverso lo strumento della malattia piuttosto che la preoccupazione per la salute e questa cosa qui è una cosa molto grave perché di fatto vuol dire accettare implicitamente che la propria vita vale meno di quella di qualcun altro e su questo ovviamente un lavoro che va fatto sia prima all'interno poi della classe della classe degli operai insomma di mare di all'interno dei magazzini e in secondo luogo poi ovviamente va portata fuori e anche come forma di rivendicazione l'altro settore invece gli altri settori che sono quelli poi un altro un altro esempio poi è le lavoratrici dell'ospedale delle delle menze dell'ospedale che anche loro è proprio è il paradosso più incredibile probabilmente perché sono lavoratrici che lavorano in ospedale quindi come dire in uno dei 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 luoghi più sotto un certo punto di vista anche pericolosi in questa fase e hanno ricevuto le mascherine e i guanti soltanto dopo un mese dall'inizio del lockdown quindi per il primo mese hanno continuato a lavorare senza le dpi a nostra richiesta di poter avere di poter avere dei tamponi la risposta della società è stata che per motivi di privacy non potevano obbligare i lavoratori a fare il tampone come dire insomma il più pulito c'è la rogna come dice il mio collega e compagno sergio di questi dei vertici di queste aziende l'altro settore invece l'altra parte insomma sono poi quei lavoratori e quei settori che hanno visto invece durante lockdown un un blocco delle loro attività mi viene da pensare ad esempio al settore del turismo piuttosto che al settore appunto dei lavoratori dello spettacolo a cui accennavo prima che ovviamente a causa del lockdown a causa appunto della dell'impossibilità per le persone di spostarsi hanno visto le loro attività chiudere le attività per cui lavoravano chiudere e quindi sono entrati come dire in quel inferno in quel girone infernale che poi è quello degli ammortizzatori sociali in questo senso è ovvio che la rivendicazione è stata intanto quella di poter avere accesso in maniera celere a quelle che sono poi tutte quante le forme di ammortizzatori sociali e poi anche il tentativo di vedere degli adeguati di vedere l'anticipo degli ammortizzatori sociali da parte delle proprie ditte perché ricordiamo che l'anticipo degli ammortizzatori sociali non è obbligatorio e di conseguenza moltissime aziende hanno deciso di non anticipare l'utilizzo appunto l'affisso la cassa integrazione lavoratori cosa che ha comportato che per circa due mesi queste persone questi lavoratori queste lavoratrici non hanno ricevuto lo stipendio e questo è questo vale è valso per i lavoratori appunto del in particolare per lavoratori del turismo mentre per quello che riguarda i lavoratori dello spettacolo che sono un settore che lavora con contratti non spesso e volentieri con contratti a chiamata è ovvio che in quel in quel caso lì non c'era un ammortizzatore sociale per cui è stato inventato è stato si proprio è stato inventato questa sorta del bono questo famoso bonus dei 600 euro che però appunto non ha la caratteristica di essere un bonus che è stato esargito ma che ha una data di inizio una data di scadenza e mentre invece la crisi per questo tipo di settore una crisi che avrà una durata lunghissima basti pensare che anche adesso che la maggior parte dell'attività delle attività produttive sono riprese per gli spettacoli ancora non c'è una data di ripresa anche noi lo vediamo nel nostro piccolo l'impossibilità di poter fare concerti di poter fare spettacoli mostre e fiere è una cosa che ci porteremo dietro quanto meno fino alla primavera dell'anno prossimo e poi chi lo sa quindi anche anche per questi anche per questo settore appunto la richiesta è stata quella di vedere intanto anche la possibilità di crescere la crescita di di questi bonus perché come dire un lavoro come quello del dello spettacolo che ha la sua vita tra maggio e settembre e che sono esattamente poi i mesi che sono stati interessati da da questa pandemia principalmente è ovvio che immaginare che lavoratori che basano il loro reddito anno su quattro mesi di attività possano farsi bastare 600 euro al mese è pura follia ecco come dire in particolare appunto questi settori che hanno che hanno che hanno visto uno stop nel momento in cui è ripresa l'attività quella che poi è lo strumento o comunque la situazione in cui si sono trovati davanti è quella di una richiesta di da parte delle aziende da parte delle ditte per cui lavoravano di una di disponibilità sia dal punto di vista della tipologia di lavoro sia anche dal punto di vista della dell'accettazione di condizioni economiche molto a ribasso incredibile lo sappiamo benissimo nel momento in cui ci sono situazioni di crisi la risposta diciamo padronale è quella di cercare di sfruttare questa situazione a proprio vantaggio usando appunto lo spettro della crisi come arma per poter vedere per poter ridurre quelli che sono poi diritti acquisiti e le forme anche le fonte di reddito dei lavoratori ad esempio quello che è successo recentemente a venezia con due hotel della dell'nh hotel che è una mega multinazionale se non sbaglio spagnola dimmi se correggimi se sbaglio ok thailand non so non so come dire non so come si dice italo americano è facile invece tra spagna e thailandia un casino e per cui la richiesta dell'hotel era quella di tagliare sui facchini e far fare il lavoro dei facchini alle cameriere piano e cremire re piani ovviamente questo cosa comporta che le cameriere piani per poter continuare la loro attività di fatto gli è stato chiesto di svolgere la mansione anche le mansioni che erano le mansioni invece che venivano svolte dai facchini mentre i facchini di fatto gli è stato detto questa è la porta e potete andarvene lì attraverso comunque con come dire è stato sufficiente anche se poi in realtà sembra noi la vediamo sempre con una cosa molto semplice ma non è anche specialmente per i lavoratori comunque esporsi una cosa molto complessa però denunciare tramite un picchetto anche ai giornali la situazione è subito queste grandi proprietà che comunque vivono del fatto che il loro nome non venga macchiato da articoli nei quali come dire posso che parlare delle magnificenze dei loro hotel si parla delle condizioni di lavoro dei loro dipendenti e questa cosa qui ha frenato questo tentativo per cui come dire siamo riusciti a evitare il licenziamento dei lavoratori dei facchini e che infatti attualmente hanno ancora hanno mantenuto il loro posto di lavoro sì lorenzo giustamente mi segnali che sto sforando coi tempi ok sì vabbè finisco chiudo insomma adesso come diceva accennava prima lorenzo il 23 di di ottobre ci sarà lo sciopero nazionale della logistica che venerdì prossimo io credo che questa al di là poi del settore in sé sia una data importante perché come dire la situazione attuale del mondo della logistica è una situazione secondo me molto è una situazione delicata però anche esemplificativa di quello che poi andremo a vedere anche in altri settori c'è stato già il contratto nazionale della logistica è scaduto a dicembre e al momento come dire tutti i grandi le grandi associazioni di categoria stanno già dicendo che vista la crisi non è il momento di parlare di rinnovo il contratto nazionale come se in qualche modo appunto si cerca di utilizzare lo spettro della crisi per giustificare il fatto che le condizioni di le condizioni dei lavoratori non possano che i lavoratori non possano rivendicare condizioni di lavoro migliore ecco io credo che invece questo sia esattamente il momento per rivendicare condizioni di lavoro non migliori ma diverse da quelle c'erano prima credo che questa crisi pandemica ha messo in evidenza come il nostro sistema lavorativo sia totalmente inadeguato per poter avere per poter appunto essere come dire sostenibile sia per quello che per i lavoratori e per quello che poi è il mondo nel quale viviamo questo è il momento nel quale noi possiamo invece chiedere che vengano fatte delle riforme vere delle riforme che parlino di riconversione che parlino di possibilità di reddito per tutte e tutti di diritto al welfare di diritto alla casa diritto alla formazione e la mobilità e quindi è nostro compito e secondo me questo primo appuntamento di 23 del 23 di ottobre è un primo passaggio per provare a smontare quella che la retorica appunto no della crisi come strumento del del come dire del siamo tutti sulla stessa barca e invece provare a lottare uniti e unite per cercare di cambiare le cose grazie a tutti Grazie a tutti.